di una delle più importanti opere in lingua italiana mai uscite, che è un libro di cucina, ma non è un libro di cucina, è il libro di cucina. Si tratta della scienza in cucina e l'arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi, che è stata rieditata, ripubblicata, non so neanche qual'edizione sia, sarà la centomillesima, poi ce lo dirai, no Fabio, che edizione è, quest'anno perché in occasione del duecentenario della nascita di Pellegrino Artusi, la casa di Teseo ha ripubblicato questo libro, questo grande best seller della lingua italiana e Fabio Francione, che qui con noi lo ha curato. Ecco, io a casa ho l'edizione dell'Artusi che mio nonno aveva regalato a mia nonna negli anni 30 ancora, che poi usava anche mia mamma, eccetera, eccetera. È un libro che c'è in milioni di case, in milioni di case italiane e quindi è anche curioso che si è stata fatta una nuova edizione, perché poi la prima domanda che mi viene in mente è, ma Fabio, cosa hai curato, ci hai messo le mani, cosa hai fatto dentro l'Artusi, dentro il libro dell'Artusi? Innanzitutto buonasera, ciao Alessandro, grazie, bella introduzione. Ti rispondo subito sull'edizione che hai in casa e gli anni dal 12 fino al 35 erano tutte ricurate dagli erediti, Artusi che come ben sappiamo erano i due domestici e questa è una cosa molto interessante. Gossip, la cuoca era anche la sua amante, scusami. La Marietta Sabatini. La Marietta era anche la sua amante, no? Allora, delle lettere che ancora non sono state pubblicate adombrano questa cosa, ma dobbiamo ricordare che Artusi era già in avanti con l'età, era un po' benissimo. Era brutto comunque, non si è mai scusato, era brutto. No, 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 era uno scapolone impenitente, ha avuto una relazione lunga, lo dice nell'autobiografia pubblicata postuma con una vedova per circa 30 anni, fiorentina, ovviamente. Il nome non lo dice, questa poi è morta e questa donna è morta e lui ha continuato a frequentare altre donzelle. Con la Marietta forse c'è qualcosa, c'è stato qualcosa, ma io ritengo a livello platonico, aveva già più di 70 anni, conseguentemente era un po' attempato come uomo e non era un uomo d'oggi, insomma, era già vecchio allora. Ah no, anche per quello, poi ne parleremo, anche con quello che mangiava sicuramente non era un uomo d'oggi. Ma no, ma sai, no, però spartiamo anche questa cosa. Ricordati che c'è sempre all'interno del libro una parte dedicata a chi aveva lo stomaco debole e lui era molto debole di stomaco, perciò non è che i pranzi erano lugugliani, anzi ci andava anche molto cauto per certi versi. Che cosa ho messo dentro l'Artusi? Innanzitutto le dizioni sono molte, come tu hai ricordato, ce ne sono alcune fondamentali, come quella di Piero Camporesi del 1970 che ha dato il là allo studio approfondito del libro. Poi ci sono le dizioni di Alberto Capatti che è il più profondo conoscitore del nostro gastronomo romagnolo e quasi come Camporesi ha una specie di transfer e anche il direttore scientifico di Casa Artusi. Io che cosa ho fatto? Io non essendo né uno storico della gastronomia né uno scienziato dell'alimentazione, bensì un italianista, ho lavorato sul testo, non ho affossato il testo con note e con altre cose di questo tipo e ho lavorato intorno proprio alle parole. Volevo che si riproducesse l'edizione del 1911, la curata ancora da lui, purtroppo non morì prima che venisse pubblicata e ho costruito intorno una cornice. La prima parte con cenni biografici, la seconda un vero e proprio commento. Poi durante questo libro è uscito il 5 agosto scorso, il giorno dopo la data della nascita del bicentenario e l'abbiamo presentato a Forlimpopoli, con una bella, all'interno della milanesana in Romagna, perché ricordiamo che il libro è stato edito da Elisabetta Sgarbi e dalla nave di Teseo. Hai fatto bene a dirlo e anzi dammi uno schiaffo sulle mani perché avrei dovuto dirlo io presentando il libro. Hai detto una cosa bella, hai sbagliato il nome, non hai detto nave ma hai detto la casa di Teseo e questo rientra in un desco familiare molto affine ad Artusi e questa è una cosa molto divertente e molto bella a mio avviso. Com'è nato il libro? Il libro è nato come tante cose che sono nate in questo periodo durante il lockdown. Ovviamente io il libro lo conoscevo da un sacco tempo, avevo tutte le edizioni, da almeno una decina a questa parte, mi girava intorno un po' perché mi divertivo e mi diverto ancora a cucinare. Naturalmente non cucino e non applico ai miei fuochi, diciamo così le ricette Artusiani perché sono convinto che sono irreplicabili, si possono fare delle rivisitazioni come hanno fatto ma non sono replicabili, perciò le mie ricette sono delle mie invenzioni, delle mie applicazioni abbastanza diverse e durante il lockdown, grazie anche allo stimolo di persone a me vicine, ho mandato un messaggio a Elisabetta che conoscevo e che conosco da moltissimo tempo dicendole perché non lavoriamo intorno all'Artusi, ti piace il progetto? Lei stava lavorando intorno a questa edizione bellissima che è venuta della milanesiana un po' in emergenza e tra l'altro con il fatto che c'erano gli extra liscio, punk da balera, il film che ha avuto tanto successo a Venezia e aveva organizzato la milanesiana in Romagna e insomma la cosa è andata, ti dico dopo che le ho mandato questo whatsapp dicendole facciamo ti piace questo progetto? Ti dico due secondi dopo mi ha risposto ti chiamerà l'editor tra due giorni, il libro lo faremo ed è una cosa bellissima, dopo naturalmente... E anche non comune, in genere ci mettono poi gli editori... No, assolutamente no, è stata veramente una roba incredibile, molto divertente e indimenticabile, dopo lavorare sul libro ragazzi non è stato mica facile nel senso che sia con l'editor Enrico Ziconi che mi ha aiutato tantissimo e gli altri due suoi collaboratori ogni volta che ci confrontavamo e ragazzi stiamo lavorando sui promessi sposi perché l'errore è sempre dietro l'angolo per un libro di 800 e passa pagine con quella struttura molto moderna, sembra quasi un blog se ci pensi, anche perché ho agito filologicamente sul testo, poi naturalmente ci sono delle correzioni perché ad esempio gli indici artusiani occupano 60 pagine, noi le abbiamo condensate mettendole su due colonne, sia il numero della ricetta che il numero della pagina, poi naturalmente i numeri delle pagine della mia edizione non corrispondono a quelle dell'edizione di Artusi, anche il formato se qualcuno va a Forlimpopoli, alla biblioteca intitolata ovviamente ad Artusi, vedrà che le edizioni sono molto più piccole, i libri sono molto più piccoli, molto più duri, insomma è tutto diverso, però il testo è quello, l'ho emendato da tutti gli errori possibili che si tramandavano di edizione in edizione. Ma che tipo di errori c'erano? Errori linguistici? Che tipo di errori hai? Semplicemente rifusi, ma anche per esempio nell'edizione quella dei millenni Enaudi di Camporesi che poi è stata anche ristampata più volte anche nei tascabili, addirittura in una ricetta non c'era un ingrediente, oppure nell'edizione del centenario della pubblicazione, cioè nel 1891-1991, nel centenario del 2011 di Capatti c'erano delle ripetizioni, è un'edizione burra, capita in un libro del genere, poi possono accadere moltissime cose, lo vediamo anche in libri pregiati, non è quello, però io ho voluto proprio lavorare filologicamente sul testo. Volevo mantenere proprio integrale il testo, rimetterlo in piedi, uno lo può compulsare a destra, sinistra, può essere letto come un romanzo, ma in realtà è molto altro, è molto in avanti, è veramente un ipertesto come direbbe Umberto Eco. Non c'è dubbio, infatti una cosa che va detta, per chi non lo sapesse, è il primo vero testo di cucina italiana, nel senso che è uscito vent'anni dopo l'Unità d'Italia, 1881, ed è stato il primo ricettario che comprendeva ricette di più o meno tutto il nuovo regno d'Italia. Ovviamente c'erano delle zone sovra rappresentate, delle zone sotto rappresentate, si sente molto l'origine di Artusi, che Artusi appunto è nato a Forlin Popoli, quindi è un romagnolo, ma viveva a Firenze, quindi c'è molta Emilia, c'è molta Toscana. Mi sembra, se non mi ricordo male, correggimi, che non ci sia nemmeno una ricetta della Basilicata, che la Basilicata sia... No, e neanche della Sicilia, e della Sardegna. Anche se poi c'è qualcosa, per esempio c'è una donna siciliana, gli mandò una ricetta e lui la rielaborò, perché il fatto importante è che le ricette le collazionava, gliele mandavano, lui le aveva raccolte, perciò c'è anche questa cosa di quasi di commentario, se vuoi, e ha tanti caratteri anticipatori questo libro. Naturalmente non nasce dal nulla, questo bisogna anche dirlo, bisogna racchiudere, è vissuto molto molto a lungo per i tempi Artusi. Come ho detto è nato a Forlimpovori il 4 agosto del 1820 ed è morto a Firenze il 30 marzo del 1911. A Forlimpovori arrivò la notizia il primo aprile e nessuno ci credeva e questa è una cosa che è molto divertente perché tutta la vita di Artusi, che è stata molto tranquilla, in realtà ha delle punte di ironia incredibili, per esempio quel fatto che tu prima hai ricordato delle donne eccetera, sai dove andava a cercarle? All'università. Le voleva anche giovani quindi. Lì conosce Mantegazza, seguiva le lezioni di Mantegazza, si metteva in ultima fila naturalmente, voi vedete la figura di Artusi è sempre col cilindro, i baffoni eccetera, perché quello è l'unico ritratto esistente. Tra l'altro è un ritratto fotografico e c'è una lettera dove lui tratta il costo di questa fotografia ed è misteriosa questa cosa, ne ho parlato anche con il bibliotecario di Forlimpovori che è quello che ha proprio i documenti fisici e gli ho detto ma guarda che è misteriosa questa cosa, lui viveva a Firenze, a Firenze c'erano gli alinari che per la fotografia sono il massimo del tempo e c'è solamente questo ritratto che è incredibile anche nella tomba di famiglia che è al cimitero delle porte sante sulle colline di Firenze, c'è la scultura e riprende sempre lo stesso ritratto che è abbastanza divertente come cosa e lui all'università stava sempre lontano, aveva un po' di balbuzie e osservava oltre che sentire le lezioni di gene, del nascente positivismo, c'entra molto con il libro e adocchiava anche queste ragazze, mi sembra anche una cosa divertente se vuoi. Ma infatti faceva una vita appunto da gaudente sotto molti punti di vista, sia dal punto di vista che sia dal punto di vista che dal punto di vista personale. Ecco una cosa anche che va detta, che appunto tu hai già accennato, che è un libro di una sorprendente modernità perché ha funzionato un po' come Facebook, cioè Artusi ha messo un posto, ovvero ha scritto una ricetta e poi gli sono arrivati decine e centinaia di commenti, ovvero di lettere, perché al tempo i commenti arrivavano scritti su carta, col francobollo, di lettere da ogni parte d'Italia, di soprattutto signore che commentavano e aggiungevano ricette, infatti poi le edizioni si arricchiscono con le ricette che gli sono arrivate. Arrivano a 790 dalle 475 della prima edizione. E infatti, si sa quante copie abbia venduto? Milioni, secondo me almeno 2 milioni, hanno fatto una volta, c'è un conteggio però... Non l'ho trovato, non me lo ricordo, io credo che sia... Lo dice Capatti, Capatti in una delle edizioni, e comunque... Credo che sia uno dei cinque libri italiani più venduti di sempre, dei cinque libri in lingua italiana più venduti in assoluto, che sono... Andiamo a Gintino, l'altro è la... La Divina Commedia, poi c'è l'Artusi, poi c'è Pinocchio, non mi ricordo quale sia il quinto, ma insomma... Tra l'altro, la grandezza di Camporesi, anche se io non sono convinto di questa cosa, che lui a un certo punto dice così, ci sono tre libri che hanno fatto gli italiani, uno è Pinocchio, l'altro naturalmente Promessi Sposi e poi c'è l'Artusi. È vero per l'Ottocento, perché ricordiamoci sempre che da Zeglio che cosa disse? Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, ma noi sappiamo benissimo, perché io e te abbiamo la medesima età, che negli anni 70 ancora si parlava un dialetto abbastanza spinto in alcune zone d'Italia, e se lo si parla ancora, conseguentemente questa unità linguistica è dovuta più che alla letteratura, io ritengo molto alla televisione, anche se poi l'italiano è diventato un italiano televisivo, ma questo qui è un altro discorso, per i caratteri anticipatori del libro, tu hai nominato Facebook, ma io nomino anche Amazon, perché lui spediva direttamente da casa le copie, aveva veramente fatto una filiera distributiva enorme, tutta questa capacità imprenditoriale gli derivava dal fatto di essere stato un buon mercante. Anche perché Fabio non aveva trovato un editore, perché è il classico caso di libro autoprodotto, perché nessuno glielo voleva pubblicare, e anche lì penso che più di qualche editore col senno di poi si sia mangiato... Ma sai, qui secondo me c'è un'altra motivazione, nel senso che, allora tutti quanti dicono Artusi è l'autore di un solo libro, non è vero, ne ha fatti tre, i primi due velleitari, perché riteneva di essere uno storico della letteratura, e ne fa una biografia del foscolo che vista oggi ha qualche virtù, perché anticipa delle cose come struttura che poi ritroviamo nella scienza. L'altra pubblicazione, e queste due pubblicazioni avvengono a distanza di un paio d'anni l'una dall'altra, sul finire degli anni 70 dell'Ottocento, osservazioni su 30 lettere di Giuseppe Giusti. Adesso non facciamo i didatti per dire chi era Giuseppe Giusti, tutti quanti l'hanno dimenticato. E va bene così, diciamo. Magari io stavo a Milano, non bisogna tanto dirlo ai milanesi, ma insomma... Va bene, ad ogni modo sono due libri pubblicati a sue spese. Non dimentichiamo che Artusi era molto molto ricco. Conseguentemente, perché uno ricco dovremmo pubblicare un libro quando potrebbe darci qualcosa? Gli editori erano furbi come adesso, non è che erano sciocchi, altro che... Pensiamo solamente al caso Salgari, tanto per citarne uno. Possiamo pensare il perché. Naturalmente, ampiamente si era rifatto delle spese. La grandezza di Artusi, secondo me, è nel fatto che è stato un uomo che si è fatto da sé, è riuscito a capire quando fermarsi e godersi i soldi che aveva guadagnato. Non è cosa da tutti. Se noi pensiamo che adesso ci sono ancora settantenni, ottantenni, che sono abbarbicati al loro piccolo grande potere, non mollano niente. Possiamo dire che Artusi era un virtuoso. E anche tutti quelli che si portano i soldi nella tomba, no? Che si dice, come il famoso detto, la bara non ha tasche. Allora, Artusi era parsimonioso, lo dico così in modo dolce, in realtà era un po' tirchietto, però lascia un testamento importante, cioè da soldi alla sua città che non dimenticherà mai, anche se era scappato via per un episodio increscioso che poi racconteremo, se vuoi. Raccontalo! Sì, volevo finire questo discorso del testamento e dà un sacco di soldi per fare l'asilo, la scuola, dà i soldi al comune, i due poteri che aveva e che gli forniscono la materia prima. Perciò qui c'è anche il chilometro zero, che sappiamo che il chilometro zero non esiste in realtà, però c'è questa cosa che i due poteri romagnoli che il padre gli aveva lasciato, gli forniscono le materie che servono poi per fare le ricette, provare le ricette, e tutto quanto che poi concerne l'invenzione del ricettario che tu hai richiamato più volte come il primo italiano. In realtà non è così, ma è quello che è il più strutturato, perché dà le indicazioni delle dosi, gli ingredienti, insomma ci sono tutte, e poi dà origine anche alla cosiddetta ricetta parlata, piena di aneddoti, come si fa, come si costruisce un piatto, e dà spunti anche ai cosiddetti food designer, se vuoi, in un certo senso. L'episodio increscioso che prima richiamavo è quello del fatto che in Romagna, la Romagna allora era una parte dello stato della chiesa, ed era una terra molto depressa, non era ricca come adesso dove c'è il turismo, eccetera, e lì a Forlimpopoli e nei dintorni di quella campagna agiva il passatore, e mette a ferro e fuoco una notte l'intero paese, che era radunato in un teatro, stava vedendo una recita. Gli artusi però erano in casa, vedi questa cosa incredibile, e gli sgherri del passatore entrano in casa, distruggono tutto, sia artusi che il padre fuggono, le sorelle, lui aveva tre sorelle, e una di queste viene violentata dagli sgherri del passatore, ed esce completamente pazza, impazzisce, e neanche un matrimonio riparatore riesce a recuperarla, e addirittura mora in manicomio. Questo episodio segnerà per sempre la vita della famiglia Artusi, e anche di Pellegrino stesso, che in tarda età ricorderà, avrà degli incubi, lo dice addirittura la Marietta in una bellissima intervista pubblicata dalla Cucina Italiana nel 1932, tre anni prima che morisse. Da lì ricaviamo molte notizie, da questa autobiografia postuma, e da questa intervista che è l'unica testimonianza diretta di come lavorava Artusi. Naturalmente il libro poi nasce, se vogliamo tornare al libro, a quello che dicevamo prima, con i due libri letterari andati, come dire, al macero, ha un periodo di dieci anni di silenzio, un silenzio operoso, fa le prove in cucina, si inventa questa cosa, e nel 1891 paga uno stampatore, come tu hai ricordato, e esce questo libro in numerose copie. Addirittura manda, e questo è strano il destino di alcuni libri, manda delle copie a una fiera a Forlimpopoli, dicendo guarda, come premio date questo libro, vedrete che avrà successo. Niente, il tabaccaio lo mette in vendita addirittura, lo mette in vendita, e poi vedendo che non lo vendeva, lo regala addirittura, ed è una cosa incredibile. Poi sappiamo la fortuna che ha avuto, è incredibile. Naturalmente, allora, in tutte le famiglie, perché poi ricordiamo che il sottotitolo è manuale per le famiglie, eccetera, tutte le famiglie avevano in casa l'Artusi, tu l'hai ricordato con tua madre, che lo riceve dalla sua madre, e perciò si tramanda, però in realtà l'andamento di fortuna critica è molto sinusidale, nel senso che per esempio Adaboni, che è l'autrice del Talismano della Felicità, un altro ricettario molto famoso, non lo sopportava, era un anti-Artusiano. I futuristi lo deridono nella cucina futurista, Marinetti lo deride addirittura in radio, e però chi ricorda più il Talismano, qualcuno se lo ricorda, anche la cucina romana, se ti ricordi, la Daboni era specializzata nella cucina romana, e chi lo ricorda? Dove non c'è la ricetta della carbonara, peraltro. Ma la carbonara è degli anni 50, è degli anni 50, mentre quella è del 1983, questo molti non lo sanno. Se si vuole far polemica, bisogna nominare la carbonara, allora lì si cadono. No, lì cadono tanti, cadono tanti, e ci sono tante versioni, ti potrei raccontare le versioni che ho visto in tutta Italia, e sono molto, molto belle, poi è sempre la più bella, però rimane quella che fai tu in casa. Ah beh, non c'è dubbio. Comunque la Daboni, poi è il Talismano della felicità, è quello che viene considerato il secondo ricettario italiano. Poi c'è anche il cucchiaio d'argento, il cucchiaio d'argento è molto successivo, degli anni 50. Esatto. Ma in Città di Pocco sono molti, c'è anche un altro. E a Daboni si passano un po' il testimone, no? Sì, sì, e ce n'è un altro molto importante, secondo me, che è quello di Anna Cosetti, le ricette regionali, secondo me quello è molto importante. E' una raccolta che esce sul finire degli anni 60, e da lì poi hanno attinto un sacco di cuochi famosi, anche lo stesso Marchesi. Certo. No, volevo dire, prima, poi chiuderemo parlando un po' di cucina, ovviamente, perché non si può non parlare di cucina nominando l'Artusi, ma volevo, prima di passare alla cucina, volevo un po' parlare di lingua, perché l'Artusi usa una lingua molto bella, usa un bel italiano, colto ma semplice, molto corretto, ed è anche spiritoso, perché poi, insomma, si lascia un po' andare quando racconta le ricette, così, racconta aneddoti, racconta cose, definizioni, una che mi viene in mente, perché mi ricordo che avevo provato a farlo, definisce lo strudel un informe serpentaccio, no? Questo dolce, ecco, e quindi, insomma, usa una lingua molto, molto bella, no? Sì, allora, non dimentichiamoci che era a Firenze, e questo qui, bisogna sempre ricordarsi questa cosa, e poi, curava molto il suo lessico, come ti dicevo, era studi regolari, autodidatta, il padre lo voleva al suo seguito, con il carretto, quando andava nelle fiere, della Romagna e delle Marche, in periodi carbonari, realmente carbonari e rivoluzionari, però è un gran e avido lettore di classici, ha sempre con sé un vocabolario, il riguttini fanfani, io ti dico per alcuni termini ricorrenti, fortunatamente, e questa è la grande virtù della nostra epoca contemporanea, internet, ho trovato il riguttini fanfani interamente in internet, perciò verificavo, perché il libro, come ho ricordato, l'ho fatto in casalingo, dove quando eravamo, nel tempo sospeso, quando eravamo tutti chiusi, e speriamo che non ritorni, anche se si sentono delle cose un po' strane, auguriamocelo, ecco, e leggeva molto i classici, ci teneva molto a questa mobilità della lingua, e capisce che sta inventando qualcosa di nuovo, lui inventa un mondo, inventa la cucina, proprio come il luogo fisico, dove cucinare e poi mangiare, il desco familiare, io per alcuni versi l'ho paragonato un po' a Pascoli, oppure anche a Pasolini, per quella fuga, sai che se ricordi, Pasolini fuggì dal Friuli, perché era stato dal partito comunista indicato come violettatore di un giovinetto, quando non era vero, ecco la madre andrà a Roma e lì conoscerà le borgate, e non è il primo a scrivere sulle borgate, perché se pensiamo a Testori o a Padroni Griffi a Milano e a Napoli, hanno fatto dei libri prima di lui, però lui inventa un linguaggio, perché conosce i fratelli Citti e gli altri, qui nel caso specifico Artusi, e il paragone è un po' azzardato, ma ci sta nella letteratura questa cosa di azzardare alcuni paragoni, e che cosa invece fa Artusi? Artusi ha con sé i domestici scrittori, che lo aiutano, e questa qui è una cosa molto importante, cioè la Marietta Sabatini e Francesco Ruffilli, una toscana di massa e cozzile, e l'altro invece proprio di forlimpopoli, ecco l'unione delle due cose, come resta sempre quella piccola patria, l'Italia è fatta sempre la piccola patria, non so se tu sei d'accordo o meno. Sì, ma non lo so, io mi ricordo guarda, no no, visto che hai nominato questa cosa, mi ricordo una meravigliosa discussione radiofonica di tanti anni fa, tra Carlos Gorlon, scrittore friulano, e Mario Ricoli Sterno, che siamo lì, di Asiago, e Carlos Gorlon aveva la mania delle piccole patrie, e a un certo punto, Rigoni Sterno sbottò dicendo, immona le piccole patrie, per cui quando io sento parlare di piccola patria, mi viene in mente Rigoni Sterno, insomma, a me viene in mente anche, come tu sei Veneto, a me viene in mente anche un po' più giù di Asiago, dove c'era Meneghello, siamo sempre in un ambito molto conosciuto, va bene, però questo è un riflessio automatico, piccola patria, Rigoni Sterno, immona le piccole patrie, va bene, cucina, poi chiudiamo, ecco, quello che accennavo prima, che dicevo, chissà cosa mangiava, beh, insomma, i menù, adesso, al di là delle ricette, che si possono, io non sono molto d'accordo sul fatto che non siano riproponibili, secondo me, la ricetta della pasta frolla di Artusi, è la migliore pasta frolla che abbia mai mangiato, no, vabbè, quella è un classico, per dire, ma, ma, ehm, se si leggono i menù, è interessante, perché, un, ehm, un pasto della festa, no, perché poi, insomma, queste ricette, non erano per tutti i giorni, un pasto della festa, era normalmente composto, da un primo, non c'era l'antipasto, perché ancora non si usava, e, da il, il famoso trittico, dei secondi, perché bisognava sempre, che fossero serviti, un bollito, un arrosto e un fritto, e, eh, si poteva sostituire il fritto con l'umido, ma, insomma, comunque c'era, quindi c'erano tre portate di carne, e, mh, poi, il, poi schiudeva con il dolce, queste cose qui, la frutta, in realtà il dessert, il concetto di dessert non c'era tantissima, più che altro frutta, ma poi, eh, tra un piatto e l'altro, c'erano i tramessi, che viene dal, dal francese, appunto, dei piatti di mezzo, insomma, i tramessi, no? E questi tramessi, erano, erano dei, dei piatti che per noi, sono magari un pasto completo, tipo i gnocchi alla romana, i gnocchi alla romana, non erano, eh, una portata, erano così, uno stuzzichino tra una portata e l'altra, ecco, eh, ovviamente adesso, eh, è impossibile mangiare in questo modo, non, non saremo neanche più in grado, anche perché dobbiamo, dobbiamo dire una cosa incredibile, questo, ricordiamoci sempre degli anni 60 e 70 del secolo scorso, cioè, quelli che noi abbiamo vissuti da bambini e da ragazzi, cioè, c'era il pranzo della domenica che era molto ricco, e spesso le famiglie non erano, eh, molto abbienti, durante i giorni, eh, normali, lavorativi, non è che mangiassero, eh, molto, e delle sacche di povertà, allora, nella fine dell'Ottocento, erano molto, molto, ampie, e, perciò erano pasti molto nutrienti, per quanto riguarda il dessert, ho avuto modo di guardare, anche grazie ad una studiosa di archeologia culinaria, mi piace questa cosa, che si chiama Samantha Cornaviera, ma certo, la Samantha, speriamo che si ascolti, ciao Samantha, è meravigliosa, ho avuto modo di vedere i menù dei grandi alberghi, dove il dessert c'era, insomma, e, c'è sempre questa distinzione tra il ricco e il povero, e, la grande capacità di Artusi, di non sintonizzarsi, solamente sulla parte ricca della società, sull'elite, ma sul popolo, è stata la sua grande fortuna, a mio avviso. Assolutamente sì, perché comunque lui, scrive un ricettario per la borghesia, per le classi sociali, che si potevano permettere di mangiare, quello che lui indicava, però, non, però ha visto lui, ha visto lui, è stato in grado, anche di parlare, di parlare al popolo, cioè, non era un radical chic spocchioso, come si usa dire oggi, no, ma anzi, invece era uno che, riusciva anche a farsi sentire, a dialogare anche con il popolo, dopodiché il popolo, che era l'80% della società, in quei tempi, voglio dire, il popolo, era un concetto piuttosto vasto, però, però, insomma, nei giorni, nei giorni normali, era già tanto, si riuscivano a mettere insieme il pranzo per la cena, ecco, però, qualche sfizio, magari, grazie ad Artusi, si riuscivano, riuscivano anche a, a farselo, poi, dipendeva se sapevano anche leggere, tra l'altro, questo è un altro discorso, sai come si chiamava, chiudiamo con una cosa simpatica, sai come si chiamava, qual è il soprannome del padre di Artusi? No, non lo so, Buratel, cioè Anguildina, perché era sfuggente, allora, se uno legge la rischietta dell'anguilla, si ricorda un po' questa cosa, grazie. Certo, va bene, allora, chiudiamo qui, grazie a Fabio Francione, che ha curato la nuova edizione della scienza in cucina e l'arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi, pubblicata dalla nave di Teseo, prima edizione 1881, 91, 91, 91, e quindi grande, grande classico della cucina italiana. Grazie a tutti. Grazie a te, ciao a tutti.